Ancora il fenomeno del caporalato, ovvero dello sfruttamento del lavoro clandestino in primo piano. L'operazione è a cura della Guardia di Finanza di Ancona nelle Marche e ha visto coinvolte tra le regioni italiane anche Veneto e Friuli Venezia Giulia. Nome dell'attività Global Pay, pagamento globale riguardante l'ipotesi di una maxifrode nel settore della cantieristica navale che interessa ben 16 società del settore subappalti di 6 regioni, tra cui appunto due del nord-est. Si tratta di imprese gestite da cittadini bengalesi e italiani, alle loro dipendenze 416 operai, di cui quasi 150 impiegati nel solo capoluogo dorico nello stabilimento di una azienda nota a livello internazionale la Fincantieri, risultata però, e gli inquirenti tengono a ribadirlo, assolutamente estranea ai fatti contestati. Contestazioni che riguardano false fatture pari a 15 milioni di euro. Gli inquirenti ritengono che attraverso illeciti contributivi e fiscali, a danno dei dipendenti delle 16 società coinvolte e dello Stato, si abbattesse artificiosamente il reale costo del lavoro per poter fornire prezzi ribassati e fuori mercato, dunque si parla di concorrenza sleale, all'importante società di costruzioni navali.